Il prossimo 12 gennaio alle 17.30 nei locali della sede provinciale delle Acli Nissene di Via Malta si svolgerà un corso formativo dal titolo Come gestire l'ente comunale, organizzato dall'Associazione Culturale Alcide De Gasperi e i Giovani delle Acli di Caltanissetta. Nella nota si legge che la riflessione sarà condotta dal sindaco di Delia Gianfilippo Bancheri con il quale si discuterà del bilancio comunale, dei compiti di un'amministrazione, delle finalità del Consiglio Comunale, delle partecipate comunali e di tutto ciò che concerne l'attività amministrativa di un ente comunale. aprirà i lavori il Vice Coordinatore Nazionale dei Giovani delle Acli Giovanni Bunoni, mentre un intervento di Rocco Gumina, presidente dell'Associazione Culturale Alcide De Gasperi, li concluderà.